e con la pensione 400. La torta bisogna farla prima di dividerla, qui dividiamo il debito, non dividiamo la ricchezza perché non la facciamo la ricchezza, poi questo non è il mio campo, io non voglio entrare in questo discorso, io sottolineo perché per me è una cosa che non era mai successa, ho quasi 60 anni quindi non sono nato ieri, però è la prima volta che io vedo e sento sottovalutate da molte parti, ragazzate, goliardate, però non passa giorno che non ci siano degli atteggiamenti, degli atti, perché adesso abbiamo un governo con un ministero dell'interno che fa il ministro degli esteri, che fa anche il ministro delle infrastrutture e fa tutto, anche il presidente del consiglio, di stampo fascista c'è poco da fare, bisogna dirlo, perché la cosa che spaventa il mondo è che l'Italia, che l'ha già appestato una volta, rivenga fuori con quelle cose lì, noi non dobbiamo, dobbiamo metterci un tabù, come anche i tedeschi hanno cercato di mettere un tabù al nazismo, lasciamola agli altri fascismo, perché noi abbiamo dato e abbiamo fatto del danno a noi stessi e a tutti gli altri, se ricominciano prima gli slogan, poi le squadracce, poi la caccia al nero, poi la caccia al sacerdote che dà le cose, che dà da mangiare ai neri, sinceramente io non so come lo chiamate voi, però noi un esempio ce l'abbiamo. Lei come lo chiama? Una destra europea che ha i tipici tratti di una destra, cioè nazionalismo, l'idea di una sovranità nazionale, territorialmente determinata, che una volta era qualcosa di obiettivamente anche possibile e pericoloso, adesso è pensiero recressivo.